E' un rimedio rapido E' un rimedio rapido Non cambiare argomento Siamo realistici Un pony è molto costoso E noi abbiamo già abbastanza problemi A far quadrare i conti Si, si, si Si direbbe che tu abbia intenzione di comprarlo il pony Promettimi che non lo farai Quello cos'era? Un sì o un no? Quelle non sono neanche parole Accidenti, cos'è questa puzza? Oh, è lei Mi scusi, ce l'avete un pony? Oh, certo amico Eccolo qui Levi, Ero, Scots Ehi, ma questo è un cane! Amico mio, lei è più intelligente di quanto non la facessi Le consiglio di provare l'allevamento di pony sulla statale 401 Basta svoltare a sinistra al mantatoio Signorina, vorrei comprare un pony per la mia bambina Non mi interessa quanto costa Molto bene Quel meraviglioso esemplare lì costa mezzo milione di dollari Mezzo milione di dollari? E' stato generato da Seattle Sue e sua madre ha vinto il Kentucky Derby Mitico Il suo ritratto urna un francobollo della Tanzania No, prendo Signor Simpson, lei possiede mezzo milione di dollari? Ehm, certo, mi permetta di farle un assegno Signor Simpson, questo assegno porta la data del primo gennaio 2054 Crea qualche problema I nostri pony partono da 5.000 dollari in contanti Mi scusi, non c'è una specie di ponile dove si possono prendere pony di terza mano? Spero sinceramente di no Ehm, vorrei, vorrei prendere un prestito di 5.000 dollari Spiacente, non ho l'autorità di approvare un prestito di tale consistenza Sal Ah! Simpson, eh? Come posso esserti uso? Signor Burns, se ne occupa lei personalmente? No, è un hobby, non lo faccio per un guadagno personale A proposito, sei al corrente delle severissime leggi del nostro Stato riguardo l'usura? Usura? Che sciocco, devo aver inventato una parola che non esiste Qual è lo scopo di questo prestito? Me vorrei comprare un pony Non è carino, Smithers, hai intenzione di entrare a far parte del cavalluccio set È così, vero? Non vorrei mica mangiare? No, devo regalarlo alla mia bambina perché non mi vuole più bene Stai zitto, Simpson Scusa Hai delle garanzie? Oh, Smithers, non c'è bisogno di essere così freddi La sua forza d'animo è la mia garanzia Basta firmare questo modulo e il denaro sarà tuo Scusa, stavo solo pensando ad una cosa buffa che ha fatto Smithers Io non ho fatto niente di buffa Stai zitto Signor Simpson, è sicuro di sapere come prendersi cura di un pony? No, certamente Homer, ci sei riuscito di nuovo? Scusa, stai, 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 stai!